I portabici sono completamente carichi, abbiamo dei ragazzi che vengono da passando il grappa, cosa vi sembra ragazzi questo servizio, anche come noi vuole spostarsi con mezzo di pubblico e portarsi dietro la bici, è un servizio che salve. Siamo in Norvegia. E tu in primiera? I giorni? I giorni? I giorni? I giorni? I giorni? I giorni? Ah, siamo campi. I giorni? Ok. E' una buona parte in bici in primiera? Il servizio? Il servizio per il bus è buono? Sì. Sì. E oggi andiamo a San Martino Rolex? San Martino enduro trail, sì. 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 Sì.